La nomina segretario regionale è una svolta o è il proseguire un cammino che viene da lontano? È proseguire un cammino che viene dal congresso che noi abbiamo fatto come CISL in Umbria due anni e mezzo fa, dove abbiamo individuato quelle che erano le priorità per l'Umbria, tant'è vero che la nostra organizzazione già nel lontano 2008 aveva comunque avvertito una situazione di criticità e di difficoltà del tessuto economico produttivo della nostra regione, perché avevamo una serie di indicatori, di cui il PIL, che comunque spostava la nostra regione da una posizione baricentrica centrale a una verso il sud, con una situazione di grande difficoltà dovuta a una forte impennata della cassa integrazione e una forte espulsione di lavoratori dal ciclo produttivo. Purtroppo il sindacato non è stato ascoltato né dalla politica né dalle istituzioni e oggi ci troviamo in una situazione di grande difficoltà, dove oggi ci sono due parole d'ordine di emergenza, che è il lavoro e soprattutto la ricostruzione. La ricostruzione per rilanciare il tessuto economico produttivo della nostra regione. Non è pensabile che a distanza di tre anni dall'evento sismico, ancora oggi, la ricostruzione è ferma al palo. Quindi riteniamo opportuno che ci sia un'accelerazione, perché è giusto che quei territori possano ritornare a vivere e soprattutto dare le condizioni a quella popolazione di vivere una vita dignitosa. C'è un sindacalista che conosciamo bene tutti e due, che dice non è la colpa dei sindacalisti che non sanno fare il proprio lavoro, è la colpa di non aver capito quello che accadeva all'interno del sindacato. Perché tutti sono contro questo sindacato che chissà quello che sta combinando, cosa fa, cosa non fa, però come cambiava il modo di rapportarsi con il lavoro non l'ha compreso nessuno. Il sindacato ha cercato comunque di adeguarsi rispetto a quelle che erano un po' le dinamiche del nuovo processo del mondo del lavoro. Tant'è vero che siamo passati dalla globalizzazione che comunque pensavamo tutti, che era il tocca sana dei problemi e che tutti quanti potevamo stare meglio, di fatto oggi se dovessimo tirare un bilancio la globalizzazione non ha fatto altro che impoverire le persone e quindi ha annientato praticamente la società di mezzo che è quella che di fatto poi rappresenta il movimento sindacale che è i lavoratori, gli impiegati che hanno comunque un reddito da lavoro. E adesso segretario regionale, questo significa che le sorti del sindacato saranno sulle sue spalle? Beh, diciamo sulle mie spalle ma anche del gruppo comunque che è all'interno dell'organizzazione. Io ho sempre lavorato in squadra condividendo un percorso e degli obiettivi con i colleghi di segreteria ma soprattutto anche con tutti i colleghi che comunque fanno parte dei nostri organismi perché la condivisione deve venire comunque dal basso e soprattutto coinvolgendo la gente che noi comunque intendiamo che rappresentiamo. Per noi ad oggi c'è un impegno fortissimo di andare comunque a dare delle risposte soprattutto nelle periferie dove comunque troviamo il disoccupato, troviamo la donna sola con un bambino oppure troviamo l'immigrato che fa fatica ad integrarsi oppure il pensionato che non arriva alla fine del mese. Quindi abbiamo una serie di situazioni e soprattutto abbiamo il giovane disoccupato e magari che ha anche abbandonato gli studi che oggi è la vera piaga sociale di questo momento. Ci torniamo sull'occupazione e sulla disoccupazione. Intanto mi viene il pensiero di chiedere che fine ha fatto la grande industria Montedison, Acciaieria di Terni, Perugina. Allora, pensare al benessere di una regione senza l'industria non è pensabile. Noi pensiamo che si possa conciliare l'attività industriale con una salvaguardia ambientale. È chiaro, nel corso degli anni abbiamo assistito a dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione ma il sindacato è stato sempre attento e oculato nell'attuare una politica volta alla salvaguardia dei posti di lavoro e soprattutto al mantenimento del sito produttivo. L'ultima iniziativa che è stata fatta nel territorio ternano nel 2014 dove comunque si è stretta intorno alla fabbrica un'intera città per difendere un sito produttivo che è un po' il fiore all'occhiello e che produce il 25% della ricchezza regionale. Questo però non è accaduto con la Perugina a Perugia. Perché a Terni si è fermata un'intera città per difendere il lavoro e a Perugia con la Perugina questo non è accaduto? A Perugia diciamo che il processo è stato più un processo dove c'è stata una condivisione di un accordo con le parti sociali che comunque hanno portato a una riorganizzazione, a una ristrutturazione che poi di fatto però ha salvaguardato i livelli occupazionati. Tant'è vero che ha spinto l'azienda a fare nuovi investimenti su una nuova gamma di prodotti che poi di fatto oggi stanno dando risultati e addirittura quell'accordo oggi ha prodotto anche in termini occupazionali ha dato delle risposte maggiori rispetto a dove abbiamo arrivato con l'iniziativa precedente. Quindi su questo le posizioni erano ben diverse. Allora parlavamo prima di occupazione e di disoccupazione. Si parla di questa soglia del 9% di disoccupazione, però quando uno va a sentire il polso di chi incontri per strada c'è un sacco di gente che è disoccupata, che sta cercando lavoro, che non lo cerca più. Che cosa è cambiato nel voler vedere l'indice di disoccupazione? Allora qui abbiamo una serie di situazioni di persone che comunque sono in cerca di occupazione. abbiamo una fascia di età anagrafica che va dai 18 ai 24 anni, che è il 18%, dove sono coloro che pagano più pesantemente lo scotto per l'integrazione nel mondo del lavoro. Questo è dovuto al fatto che magari non c'è stato, forse in passato, ma anche oggi è scadente, quel collegamento tra il mondo della formazione e il mondo produttivo. Si tratta di fare per ogni singolo territorio un'analisi su quelli che sono i veri fabbisogni produttivi e soprattutto va incentivata oggi più di ieri gli istituti professionali. Gli istituti professionali che momentaneamente in questi ultimi anni sono stati abbandonati dagli studenti, dobbiamo ricreare le condizioni perché questi istituti professionali vengono valorizzati e potenziati per creare nuove professionalità da inserire nel mondo del lavoro, che oggi è con la digitalizzazione, richiede una massima capacità professionale. Perché chi ha un bagaglio di professionalità riesce a ricollocarsi, chi non ha un bagaglio professionale e magari è stato espulso dal ciclo produttivo, e mi riferisco purtroppo ai tanti cinquantenni che sono giovani per l'Inse e meno giovani per il mondo produttivo che se non avviati a un percorso di riqualificazione e di formazione rischiano la disoccupazione strutturale. Quindi questo lo dobbiamo evitare. Per i giovani che cosa possiamo fare? Per i giovani per esempio potremmo fare uno strumento secondo me interessante da valorizzare e potenziare l'alternanza scuola-lavoro. Potenziare il discorso dell'apprendistato professionalizzante, che sono tutti strumenti che è il primo approccio che ha lo studente o il lavoratore nel mondo del lavoro che può agevolare un eventuale inserimento nella pianta organica aziendale. Che cosa hanno più di noi, i tedeschi o i francesi? Di quella grande Italia settima regina nel mondo che cosa c'è rimasto? Allora, che cosa hanno di più? Beh, innanzitutto hanno un regime fiscale diverso che molto spesso, oggi noi sentiamo parlare dal governo di abbassare le tasse sul lavoro e parlare di cuneo fiscale finalmente. Questo è un argomento che il sindacato ha posto ai vari tavoli ormai da molto tempo e magari è stato sempre poco ascoltato perché di fatto anche l'incidenza della pressione fiscale e contributiva sul costo del lavoro è una cosa importante che potrebbe creare delle competizioni negative e soprattutto anche con i nostri partner che sono quei tedeschi e i francesi perché noi abbiamo una pressione fiscale intorno al 44-45% e gli altri ce l'hanno intorno al 19-20% quindi un 20% di differenza incide anche sulla competitività delle imprese rispetto allo scenario anche europeo. Che idea si è fatto di quello che sta accadendo a Taranto? Beh, Taranto, innanzitutto va fatta una battaglia per la difesa di un sito produttivo che soprattutto va mantenuto e soprattutto noi chiediamo come sindacato che ci sia il pieno rispetto degli accordi sottoscritti non si può raggiungere un accordo e a distanza di otto mesi non riconoscerlo quindi va chiamato a un senso di responsabilità l'impresa che si è presa all'appalto per continuare soprattutto anche su una questione legata all'aspetto ambientale perché l'aspetto ambientale non deve essere cosa se rispetto all'attività produttiva secondo noi si può conciliare l'attività produttiva con una particolare attenzione all'aspetto ambientale questo è quello che sta facendo oggi l'acciaieria di Terni la tanto discussa discarica che ha creato discussioni eccetera oggi mi sembra sta diventando un valore aggiunto perché su questo si sta realizzando un progetto che da un prodotto di scarto sta diventando una risorsa per riutilizzare questi prodotti per fare altre attività quindi è un ragionamento di economia circolare che comunque porta a una maggiore valorizzazione con particolare attenzione alla questione ambientale su Terni abbiamo un problema che l'inquinamento non è solo dovuto dall'acciaieria o dalle imprese è dovuto anche dal trasporto perché su Terni mediamente ogni giorno circolano 500 tir che creano problemi ma soprattutto inquinamento quindi forse sarebbe giunto il momento anche se tardivo di completare la piastra logistica per alleviare il disagio degli spostamenti su gomma e soprattutto potenziare spostamenti sulla rete ferroviaria il collegamento soprattutto con il porto di Civitavecchia di Ancona per l'inoltro delle merci nel mondo Già, il porto di Civitavecchia è una delle cose che i tedeschi di ThyssenKrupp ancora hanno qui sulla gola sono quelle fantomatiche promesse che si fanno all'investitore straniero e poi gli si cambiano le regole nel momento in cui si inizia a giocare Sì perché ancora è da portare a compimento quei 3-4 chilometri di collegamento con il porto che sarebbero comunque potenziali una cosa importante e strategica per l'inoltro e anche per acquisire anche materie prime ma il porto di Civitavecchia non può essere non deve essere solo funzionale per la questione delle merci ma può essere anche la vetrina per il turismo per veicolarlo nella nostra Italia perché una delle attività dove noi dovremmo puntare rispetto a quello che offre il nostro territorio regionale e nazionale è tutto l'aspetto architettonico e turistico che comunque può essere un valore aggiunto per l'economia regionale e nazionale Il sindacato come è cambiato negli ultimi 20 anni? Il sindacato da un sindacato rivendicativo siamo passati anche a un sindacato che comunque è della concertazione dove comunque vogliamo tramite il dialogo e il confronto vogliamo derimere le controversie e cercare di risolvere i problemi noi oggi abbiamo solo una parola d'ordine è quella di salvaguardare comunque il lavoro e le produzioni su questo si basano le nostre piattaforme rivendicative con una particolare attenzione all'aspetto della salute e sicurezza dei lavoratori perché secondo noi è importante salvaguardare l'occupazione ma anche tutelare la salubrità del lavoratore nei luoghi di lavoro Certo che in Umbria c'è stata questa sorta di terremoto politico come ci si trova di fronte il sindacato ad un cambio pagina così importante? Ma guardi, noi rispettiamo la volontà degli elettori Umbri il sindacato e la CIS che io rappresento non abbiamo pregiudizio a sederci ai vari tavoli perché noi non guardiamo l'appartenenza politica ma vogliamo sempre confrontarci rispetto ai contenuti Ora, al di là delle enunciazioni della nuova governatrice su alcune questioni che lei ha messo in candiere rispetto al lavoro, rispetto alla ricostruzione sono argomenti a noi cari e pertanto chiediamo da subito di avviare comunque un tavolo di discussione per dare una risposta ma soprattutto dare un po' uno scossone per rilanciare un po' il tessuto economico produttivo della nostra regione che purtroppo da troppo tempo è in grande difficoltà Lei parla spesso di ricostruzione di quello che è accaduto con il terremoto Si parla tanto di ricostruzione ma si fa poco per la ricostruzione Perché c'è questo disinteresse per il cratere della Valnerina? Ma secondo noi perché è stata sbagliata un po' l'impostazione perché forse se si sarebbe preso come elemento di riferimento il modello della ricostruzione del 1997 dove si attribuiscono pieni poteri e responsabilità agli amministratori degli enti locali sul territorio forse alcune situazioni soprattutto tutti gli aspetti legati alla burocrazia potrebbero essere stati superati e si sarebbe potuto creare quelle condizioni soprattutto per avviare la ricostruzione e dare una risposta di certezza e speranza alla popolazione che oggi di fatto purtroppo a distanza di tre anni molti l'hanno persa e quindi che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un doppio danno dove molti si sono spostati hanno delocalizzato le loro attività produttive e molti hanno fatto scelte diverse dove si sono trasferiti quindi rischieremmo di fare una ricostruzione dove non c'è più la popolazione quindi su questo dobbiamo ricreare quelle condizioni e soprattutto lasciare le persone che hanno sempre vissuto in quei luoghi perché la presenza dell'uomo è anche una salvaguardia e tutela del patrimonio e dell'ambiente Quanto conta il turismo in termini di soldi ipotetici per la nostra regione? Il turismo è un aspetto importante noi abbiamo più abbiamo oltre al turismo religioso che comunque è un aspetto importante soprattutto anche in quell'area del cradere del sisma ma abbiamo anche tanti turisti che vengono nella nostra regione perché è una regione che è attraente e soprattutto i famosi ecoturisti che comunque vengono in Umbria per rigenerarsi e soprattutto anche per assaporare e comunque vivere alcuni periodi in libertà e respirando anche dell'aria pulita perché che se ne dica l'Umbria è ancora il polmone verde dell'Italia Quali sono stati i suoi primi pensieri al momento dell'elezione al segretario regionale? Uno dei miei obiettivi che ho in testa e che vorrei portare concretizzare quindi dargli le gambe è di creare questa condizione soprattutto di venire ad un patto con le istituzioni col mondo imprenditoriale per la ripresa e per il rilancio del tessuto economico produttivo ce n'è tanto bisogno abbiamo un tasso di disoccupazione preoccupante e soprattutto dobbiamo evitare che dall'Umbria partano i cervelli noi abbiamo bisogno che i nostri giovani restino nel nostro territorio regionale Il fatto dei cervelli che partono è la mancanza di lavoro è il fatto di non riuscire a costruire qualcosa qui E noi dobbiamo dobbiamo ricreare le condizioni per creare nuovo lavoro nuovo sviluppo partendo da un dato soprattutto facendo un'analisi e un approfondimento su quello che il territorio oggi il nostro variegato territorio regionale ci mette a disposizione Il sindacato è poco presente in televisione e sui giornali è una scelta del sindacato o sono gli organi di stampa che si occupano meno del sindacato? Ma questo non non penso che siamo ci siamo ci siamo quasi frequentemente rispetto alle nostre questioni rispetto all'attività che comunque noi facciamo quotidianamente mi sembra che sia sulle organi di informazione che anche in televisione noi ci siamo e magari esterniamo sempre quella che è la nostra posizione che può essere condivisa o meno però noi abbiamo sempre espresso la nostra posizione tenendo sempre in considerazione che comunque per noi resta fermo la salvaguardia dell'occupazione ma anche dei siti produttivi in CGL sono tanti che dal sindacato sono entrati in politica CISL non non ha questa tendenza è proprio una caratteristica del vostro sindacato? Noi abbiamo un nostro il nostro statuto che è ferreo che c'è la netta incompatibilità tra l'attività politica e l'attività sindacale quindi uno deve scegliere o l'attività politica o il sindacato noi abbiamo scelto di fare sindacato Che cosa significa fare sindacato oggi? Sindacato significa mettersi a disposizione delle persone che comunque ti conferiscono mandato e che devi dare delle risposte e devi rappresentarli sia nei confronti delle aziende private ma anche nella pubblica amministrazione e nei servizi Siamo in chiusura c'è una persona ci sono più persone a quali devi dire grazie per essere arrivato a diventare segretario regionale Io devo solo ringraziare i tanti lavoratori che ho avuto modo di conoscere durante la mia esperienza sindacale e soprattutto i miei colleghi che mi hanno espresso il voto lunedì scorso e che hanno riversato in me stima e fiducia e grazie a loro sono arrivato a ricoprire questa ambiziosa carica dove ci sarà tutto il mio impegno ma è chiaro che io vorrei realizzare un lavoro fatto di squadra perché insieme possiamo condividere obiettivi più ambiziosi Che ne pensa del reddito di cittadinanza? E' il modo per risolvere il problema della disoccupazione? Assolutissimamente no perché il reddito di cittadinanza è solo un sussidio economico quando le persone che hanno perso il posto di lavoro oppure che non ce l'hanno non cercano il reddito di cittadinanza e il sussidio cercano il lavoro perché il lavoro è dignità il lavoro è identità il lavoro è appartenenza il lavoro è integrazione nel contesto sociale in cui uno vive e quindi manca tutta la parte relativa all'aspetto della formazione della riqualificazione per essere reinseriti nel mondo del lavoro Quei 5 miliardi del reddito di cittadinanza se fossero stati dati per lo sgravio fiscale per l'azienda avrebbe avuto più successo? Sicuramente sì sicuramente sì perché devono essere tutti strumenti importanti per stimolare comunque l'occupazione Cosa accadrà al mondo del lavoro? Qualcuno dice che con l'arrivo di tanta mano d'opera straniera si arriverà a quello che era la crisi del 29 in America davanti ai cancelli diranno chi vuole venire a lavorare oggi per 10 euro pronti si apre gli altri stanno a casa finirà così? Ma no questo sarebbe un tornare indietro ora non la generalizzerei così io direi sostanzialmente questo che oggi è tanta la domanda è poco all'offerta però è tutto deve essere ricondotto nell'alveo della contrattazione nel rispetto dei contratti quindi questo famoso salario minimo che si sta parlando comunque sta diventando una questione veramente un blef per spostare per non applicare più i contratti di lavoro perché nel contratto c'è il salario minimo ma ci sono anche altri istituti contrattuali che una volta usciti dal contratto non avrà più il lavoratore quindi non cadiamo su queste provocazioni e contraddizioni rimaniamo ancorati e fermi nell'alveo della contrattazione perché nella contrattazione c'è salario ma ci sono anche tanti diritti l'ultima parola è per Ulderico Sbarra che ha lasciato il saluto suo nei confronti di Ulderico Sbarra Ulderico è un amico un collega che ha lavorato ha fatto il segretario 11 anni e l'ha fatto anche molto bene perché ha tenuto sempre alto quelli che sono i valori e le posizioni della Cisle sia nei confronti della contrattazione ma anche nel confronto con le istituzioni regionali tant'è vero che abbiamo fatto in questi 11 anni anche molte iniziative unilaterali per difendere e sostenere quello che era il tessuto economico produttivo all'inizio dicevo che avevamo fatto un'analisi nel 2008 nel 2008 abbiamo lanciato questo SOS che non è stato ricevuto che non è stato ricevuto questo SOS che non è stato ricevuto per fare un'analisi